Tra questi volti si celano quelli dei protagonisti del corteo storico della perdonanza celestiniana edizione 2013. 20 le domande pervenute al comitato perdonanza per partecipare alle selezioni per il ruolo della dama del perdono. 6 quelle per il giovin signore, 14 quelle per la dama della croce. In 90 invece hanno chiesto di far parte del corteo storico nel ruolo di figuranti. Ieri le selezioni per il giovin signore e le due dame. Tante giovani, aquilane, emozionate nel vestire anche solo per prova i vestiti che sfileranno a fine agosto nel corteo simbolo della città. Non si tratta però ancora di quelli ufficiali, almeno per quanto riguarda l'abito della dama della croce. Quello indossato ieri è un bozzetto di sartoria perché quello definitivo e ufficiale, impreziosito da ricami studiati appositamente per l'occasione, verrà presentato il 17 agosto nell'ambito dell'inaugurazione della mostra di Tombola Aquilano, Tombolo Grafando l'Aquila, obiettivo sulle trame. Giovanna Di Matteo, oggi si sta procedendo alla scelta della dama o meglio è il vestito che sceglie la dama? Assolutamente sì, questo abbiamo visto in tutti questi anni, che è l'abito che segna in maniera particolare il personaggio, perché non è soltanto un fatto di taglia o di altezza, ma è anche una questione di portamento e di insieme. Ci sono dei volti che acquistano moltissimo e certe volte arrivano delle bellissime ragazze e tu dici questo gli sta veramente starà benissimo, non è vero. Quindi il costume in qualche modo è tutto un insieme di personalità, di portamento e poi anche di misure. Come avverranno adesso i prossimi passi, quali sono le tempistiche? Dobbiamo selezionare, dopo finito con loro, dovremo selezionare e dare i costumi a tutti quanti i figuranti, quindi nei prossimi giorni speriamo di farcela entro ferragosto ad assegnare tutti quanti i costumi, perché nel periodo successivo andranno fatte tutte le varie modifiche, tutto quello che serve per avere il costume perfetto, il 28. Naturalmente per la dama e il giovin signore sapranno il giorno della presentazione chi è stato selezionato. Ultima domanda sul giovin signore, le domande sono sempre di meno rispetto ai personaggi femminili, quest'anno quanti se ne sono presentati? Quest'anno avevamo sei domande, solo che due ragazzi erano in vacanza fuori, quindi non ce l'avrebbero fatta a rientrare, è una gara a quattro, però sono giovani e quindi potranno partecipare gli anni prossimi. Certo, per i ragazzi è sempre difficile, c'è questo senso del pudore, un pochino hanno paura, hanno paura di essere ridicoli. Tanta, dicevamo, l'emozione non si tratta, sottolineiamo, di un concorso di bellezza, le ragazze lo sanno e sanno anche, come dice Giovanna Di Matteo, che è l'abito che sceglie la dama, ma l'emozione è tanta e la voglia di percorrere le strade del centro martoriato in abiti d'epoca, per molte e molti, è un sogno che può diventare realtà. Giulia, 20 anni, tu studi lettere, all'Aquila perché hai deciso di candidarti? Allora, partecipare al corteo storico della perdonanza è stato sempre un sogno sin da quando ero piccola e l'ho fatto rivestendo però il ruolo della dama della bolla che sicuramente è il ruolo cardine di tutto il corteo ed è sicuramente una grande emozione per la nostra città che dopo tutti questi anni dal sisma ancora stenta a riprendersi e quindi questo momento del corteo storico è sicuramente un momento in cui la città sembra essere tale e quale a prima del terremoto e quindi insomma è un ruolo abbastanza importante e è un sogno di tutti, penso potervi accedere. Giulia, 22 anni, perché hai deciso di candidarti? In realtà i motivi sono due. Uno è personale perché io sono la classica ragazza che studia, sta dietro i libri e non sta mai sotto i riflettori perché non le piace e quindi una sfida personale e il secondo è un po' retorico diciamo per la città perché è un onore e sembra che nella settimana della perdonanza la città che soffre come se prendesse una medicina stesse un po' meglio e aiutare le persone è quello che voglio fare da grande studiando medicina quindi un po' un motivo anche per la città insomma. Fai l'università qui all'Aquila? Sì. Perché hai deciso di rimanere qui? Perché bisognava rimanere dopo il 2009 anche se l'Aquila è diventata un po' una realtà che va stretta e giovani qualcuno deve rimanere un po' a stringere le unghie e i denti e lottare un po'. Mario tu sei uno degli aspiranti giovin signore siete pochi perché insomma come ogni anno c'è sempre più richiesto ovviamente per quanto riguarda la Dama della Bolla o la Dama della Croce e meno invece di ragazzi perché hai scelto di tentare questa strada quindi di mandare la tua candidatura? 719esima edizione della perdonanza celestiniana secondo tentativo ci ho provato anche l'anno scorso però va bene da comandata quest'anno ci abbiamo riprovato proprio perché comunque ci sono varie situazioni insomma anche sull'Aquila il fatto che insomma si è parlato di questa Dama della Bolla che non porterà, che la porterà quindi ho detto proviamoci anche quest'anno facciamo un tentativo è una bella posizione è un'importante figura che sta all'interno del corteo storico è una perdonanza particolare perché non provarci e vediamo se possiamo farcela